Salve ragazzi, oggi vi farò vedere un upgrade fatto non da me ma da un negozio molto affidabile che si trova a Milano, questo è il famoso computer, prima era un windows 98 con 256 di ram e 33 d'hard disk, adesso è diventato un XP, 1 giga di ram, sempre 33 quello che è d'hard disk però c'è montato un RD da 500 giga e una scheda grafica AT Radeon HD 3650 e un masterizzatore DVD dell'ASUS, non male, molto veloce e silenzioso, infatti da dietro si può vedere qua, reducing system e cia cia cia, farò vedere i tempi di accensione, diciamo che sul vecchio 98 erano molto più veloci, vabbè essendo vuoto ci credo che era veloce comunque, ah ci ho attaccato lì anche delle porte USB perchè quelle davanti sono un po' cupatine, vabbè al momento sto usando una linea diretta col filo per andare su Intel, però a volte uso la chiametta odiosa che riceve sempre un segnale basso, bene, questo è il punto, ci ho attaccato di tutto, il monitor non era questo perchè prima ovviamente cambiando la scheda video o grafica quella che è, il vecchio monitor non la supportava perciò è andato in Mona, andato da quel paese, e attualmente lo sta usando mio padre su un fisso che non usa più manco lui, perciò ho il fisso di la Pacifica. Come computer non è male, può far girare decentemente Call of Duty 2 e 4, a una velocità normale, è già acceso, senza casini, ovviamente con lo sfondo del Mac perchè a me il Mac piace un sacco, però i soldi ce n'è e non è ancora tutto uscito ovviamente, manca MSN che rompe le palle, però prima che esca ci vuole un'eternità. Vabbè, tastiera neanche queste di serie, tutta modifica, cioè della Trust, molto ottima, infatti c'ha di tutto, mille tasti per, tipo questo internet, mail, cerca, risorse, qua word, cicciocio, che neanche uso, non è usato. Qui c'è il tasto del volume, avanti, pausa, questo è utile quando il computer si blocca a volte, potete schiacciare qui e si spegne immediatamente. La rotellina per andare su e giù, e il mouse, della notte, non male. Bene, qua è andato tutto. Allora, faccio vedere, aspettate che qua, prima che parta, sul 98 diciamo che ero ormai già tutto, ero già su internet diciamo, però non era la gran velocità. Comunque, risorse, ok. Vorrei montarci un visto, ma non so, perché là sull'altro fisso ho provato a montarlo e diciamo che occupava tutto l'hard disk anche di là molto ridotto, essendo un XP all'inizio. Bene, queste sono le caratteristiche dell'hard disk interno, 23, no, scusa, non era 33, 38, inghia. Quindi, NTFS ho dovuto convertirlo dal FAT a questo, perché essendo un vecchio hard disk supportavo il FAT, ma grazie al disco di XP me l'ha formattato in NTFS. Mentre questo è l'altro hard disk esterno, 460, vabbè, 500 giga, cioè. Però, il bello è che me lo legge come hard disk interno. Posso installarci anche i programmi da qui. Vedete, non so se è una cosa normale, secondo voi. Non legge infatti qua, programmi? Safari, che ne so, Call of Duty, me li installati normalmente. The Sims. Eh, tutto. Funzione, questo è bello. Vabbè, dopo ci ho aumentato un po' di musica. Un po' di musica, boh. Sentiamo... Il Linkin Park. Ovviamente ho messo Internet Explorer nuovo, il 7, e Windows Media Player. Basta, la musica risponde molto bene. Parte subito, stoppi senza bestemmiamenti. C'è anche il floppy, che è ovviamente... Quel coso lì. Ah! Questo... Mi è stato regalato. Col NoSul 98, ovviamente. Ma... Mi è stato regalato, perciò ho speso solo aggiornarlo. Infatti qua... Infatti qua... Eh... 180. 180. Di fare il tutto con cose varie. E... Nientà... Ah, sì, aspettate, vi far vedere qua. Pannello di controllo. Prestazione... Base... Ok. Eccolo qua. XP Professional... Cagate varie. Sì. Eh... Mi chiamo massimo adesso. Questo è un Intel Celeron 2 GHz. Un po' pochino, essendo ormai i tempi. Però... Già per ai tempi essere un 98 con questa velocità era molto veloce. Eh... Un giga dirà. Scheda video... Vabbè... Prima di cercarla... Passano gli anni. Comunque si può vedere che... Adesso non si vede bene, però... Ecco... Ah, T vedete... Ah, T. Tana... Nient'altro. Cosa dovrei dire, boh... Internet è veloce, uso Safari. Perché Mozilla, vabbè... Safari è ancora più veloce. Da quello che mi dicono. Infatti è veloce. Il problema è che... Prima che spunti... Infatti, vedete... Facciamo invio. Niente. Vabbè, non sono connesso ad Internet. Infatti, però... Veloce. Sono... Ah, vi faccio vedere Call of Duty. Che in genere dovrebbe essere veloce. Ah, già, ci vuole il disco. E... Non... Non... Devo cercarlo. Devo cercarlo, infatti. Basta. Faccio vedere come si spegne. Se per voi è veloce. Ditemelo voi. Basta. Basta. Nient'altro. C'ho la Play 3. 60 giga. Che ormai ce l'ho da quasi due anni. Diciamo. 60 giga quella che ormai fuori produzione. Che costa un botto se uno la vuole comprare. Nient'altro. Grazie e arrivederci. Basta. Ciao. Ciao. Ciao.